Sindaco, una giornata particolare per l'ex scuola Carlo Febo di San Nicolò, si pianta un albero, potrebbe sembrare un gesto semplice, ma in realtà nasconde dietro molto altro. Un gesto semplice, simbolico, ma un forte segnale, perché dimostra e rappresenta di quanto la comunità di San Nicolò, di quanto questa frazione tenga al recupero, all'equalificazione di questo, che è il cuore della frazione stessa, perché qui si sono formate generazioni di San Nicolò, non solo per il ruolo che ha avuto questa scuola, ma per tutto lo spazio per l'area verde, che è stato sempre un centro di aggregazione fondamentale per la crescita della comunità della frazione di San Nicolò a Tordino. Ecco perché è molto importante questo messaggio. Tra l'altro, un albero donato da un'associazione, un'associazione del territorio che sta lavorando tantissimo, la San Nicolese, un'associazione sportiva, ma che sta svolgendo un ruolo importante proprio per la comunità, con tante iniziative. Vorrei ricordare anche il dono, una donazione di 2.000 euro, tratte da una cena di autofinanziamento, proprio da destinare al recupero della scuola Carlo Febo. dell'ex scuola Carlo Febo, donazione già effettuata, che noi abbiamo ricevuto e ovviamente sarà una, diciamo così, metaforicamente una prima pietra, prima fondamentale pietra per quello che è un obiettivo fondamentale, perché vede quello che è successo sul recupero della Carlo Febo, sul mancato recupero della Carlo Febo negli anni precedenti, è una ferita che dobbiamo assolutamente rimarginare. Abbiamo perso 550.000 euro finanziate, destinati proprio a questo intervento, e per le omissioni, la mancanza di attenzione per la frazione di San Nicolò, come per tutte le altre frazioni del nostro territorio, queste risorse sono state perse. Quindi un recupero fondamentale per destinare questa struttura e quest'area alla collettività di San Nicolò, per interessi, ovviamente in tutela di un interesse pubblico, interessi pubblici, quindi associazioni, servizi per la cittadinanza, pensiamo a una biblioteca per la frazione, un punto fondamentale di aggregazione che non possiamo più lasciare così abbandonato. Io vorrei ricordare che dai giorni immediatamente successivi all'insediamento siamo intervenuti per la bonifica dell'area interna, che era stata letteralmente vandalizzata, sia per un'inciviltà, diciamo così, di chi comunque ha compiuto gesti inaccettabili, ma anche per il mancato controllo. Questo non potrà più essere tollerato. C'è la signora Lina di Crescenzo, che è stata la madrina di questa scuola. La madrina di questa scuola, perché questo è stato il primo edificio scolastico di San Nicolò, praticamente. Poi ho insegnato pure in questa scuola, abito qui vicino, e quindi vedere questa scuola chiusa mi mette proprio tristezza. Quindi rivederla risorgere, insomma, diciamo, mi fa piacere, mi fa veramente molto piacere. Ci riuscirà l'amministrazione d'Alberto? Io me lo auguro, perché Gian Guido è veramente un ragazzo in gambo, cresciuto a San Nicolò, io lo conosco da quando era un frugoletto così. Mio marito l'ha curato, quindi mio figlio gli ha fatto da padrino, per cui siamo proprio illimitati. Quindi io mi auguro che lui possa fare senz'altro qualcosa di buono.